allora sono qui in solidox o questo ho creato questa estrusione qua mi sono creato un piano e ho creato uno schizzo adesso vado in estrusione ok dunque gli dico questo piano qua se io vado subito a cliccare in doppio clic qui faccio qui in automatico vedete sono qua sul 28 in automatico e clicco due volte qua qua lui cosa fa in automatico capisce che devo arrivare fino alla superficie e la superficie e la faccia e dunque questo è molto 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 comodo adesso io clicco qua ok e ho fatto la mia estrusione in un corpo solido e ho fatto questo dunque molto 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 interessante andiamo a a ripetere semplicemente sono qua valgare apriamo lo schizzo ok vado in funzioni estrusione e faccio mi sporto per vedere doppio clic e lui in automatico fino alla superficie e faccia unisce il risultato e così molto 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 interessante doppio clic fino alla superficie ci vediamo alla prossima rivederci